Bellezze Venete 2011 è il calendario nato 5 anni fa da un'idea del direttore artistico padovano Paolo Braghetto per valorizzare le ragazze di tutta la regione che hanno posato davanti all'obiettivo del fotografo veneziano Gianfranco Brusegan che ha dato alle 14 foto uno stile più fashion rispetto alle precedenti edizioni. Anche per il nuovo anno sono state selezionate non solo fotomodelle finaliste di concorsi di bellezza ma studentesse anche laureate, bariste, commesse, impiegate e persino pizzaiole alla prima esperienza che hanno accettato di mettersi in gioco magari con l'ambizione di fare strada nel mondo della moda e dello spettacolo. Le protagoniste sono le padovane Deborah, Ketty, Linda, Cristina, Alice, Diana, Angela, Valeria e Beatrice, le veneziane Angela, Stella e Margherita, le trevigiane Marta e Alice, le vicentine Marta e Marianna, la rodigina Barbara. Visto il successo riscosso nell'ultima edizione, il calendario vede anche questa volta la presenza di un uomo, Alessandro, ai tante meccanico veneziano, in una foto di coppia davvero particolare. Bellezze Venete 2011 si avvale della nuova grafica di Alessio Semenzato e ha una finalità benefica. Sostiene infatti il progetto di Leo Club 108 Italy, tutti a scuola in Burkina Faso. Il backstage, foto e video e altre curiosità saranno presto disponibili sul sito www.bellezzevenete.com. Le nuove modelle sfileranno in una serie di serate in locali e ristoranti tra Venezia e Padova. Grazie a tutti. Grazie a tutti